E' un bellissimo evento di fine estate che ha portato qui in piazza Cittadella un'integrazione di sociali insieme a tanto indivertimento. E quindi a maggior ragione dobbiamo lavorare per sostenere queste attività, questi eventi, questi momenti di riflessione ma anche momenti di festa. E' un ringraziamento a tutti coloro i quali hanno permesso questa meravigliosa giornata e un po' la mia anima mi chiama e mi dice di ringraziare anche tutti i bikers che sono presenti. E' andata stra bene, sono stati di super bulli, altro che scherzi. Grazie a tutti. Oggi più che mai è l'evento più importante dell'anno, forse l'evento più importante di sempre. Siamo in piazza Piero Bon, città unica nel suo genere, dove abbiamo avuto la collaborazione del comune, il patrocino della regione, tantissime le realtà, le aziende che ci hanno supportato. Avremo più di 300 ragazzi con disabilità in presenza, più di 105 volontari, 36 steward. Abbiamo mostrato veramente qualcosa di importante, tutto per l'integrazione, la sensibilizzazione e la condivisione. Cittadella! 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 L'obiettivo era non fare passare agli altri quello che ho passato io. Io mi sono trovato a essere solo, abbandonato da tutti e da tutto e non volevo far passare gli altri questi. Il senso è integrazione, divertimento, motosport e tanto inclusione. Cittadella! 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 Il senso di lui che crea tutti i amici sono attenevi di una di dalle delle cose insolite. Dalla! Capítulo 37 cittadella! Lévoหนywужicaессi e il controlla più i miei cittadini aluncare. Ob defecto 3 oasiliari che avevano le cittadinanza. Lelana, l'unico, dall'unico zonaggio, è supportato per гр treasury della costa in un link. Mai, anche con羽 Grazie.